Al settembre del 1979, l'alba della più sanguinosa guerra di mafia della storia. Minchiasa è brutta. Quando eravamo pronti a passare due o tre secoli lontani dalla Sicilia, perché mio padre ha deciso che quello che avevo visto non potevamo tenercelo per noi. Che c'è? Io con calma ho convinto tutti a scendere da quella nave. Non immaginavamo che annunciava tempesta. La famiglia è tutta co-ntuccineata. Ido, non doveva tornare qua. Allora, ma marciano un cristiano? Lo faccio senza pensarci. Non possiamo più restare qua. Non è più sicuro. No! In questa casa? No, salvo a Palermo, in Sicilia. Un giorno arrivi all'alba, l'altro a metà mattinata. Ma che cosa nascondi? Allora... Oh, Cusumano! Ma come fai? Come fai? Dico che ti levi le scarpe, le pattine, sai, Siccio, non ti sento arrivare. Passano i giorni e tu non fai un amico. L'ho trovato. Si chiama Vincenzino. Ma Dottò! Ancora non potevo volare! Vai, vai! La situazione non è facile. Noi siamo cibi che vogliono fare una vita normale. Vado dove le cose si possono cambiare davvero. Provo a fare il concorso per entrare alla regione. Ma il mondo si stava rimettendo a girare per il verso giusto. I forti tornavano forti. Gli ottusi, ottusi. You gotta get out, you gotta get out, you gotta get out. Vincenzino! Vincenzino! No, io ho un macho.